Perché bisogna finalmente mescere in atto quel grande, 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 grande piano Mascia. Che poverina, ha chiuso il centro massaggi per via del culonavirus. Il coronavirus, presidente, comunque forse intendeva un piano Marshall. Esatto, perché l'importante è che sia grande, 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 grande. Grande, non facciamo come l'altra volta che mi hanno portato un pianino Marshall piccolissimo? Gli ho detto, ciao Michele, cosa ce ne facciamo di un pianino così? Ma sta facendo confusione. Però scusi, un piano Marshall per fare cosa? Non lo so, scelga l'ergomento a piacere, Libia, Sicilia, Africa, animali, goniometri e rucola. Per me è uguale. Se vuole la chiamiamo, chiamiamolo l'uomo l'uomo, piano Marta. Marta. Già faccio contenta, è anche la mia nuova signora. Ah ecco, quindi conferma le indiscrezioni della sua nuova... Ormai sono costretto perché è uscita la notizia su quel giornalaccio di gossip che pubblica solo schifezze. Ma cos'è? Forza Italia 2000. Ascolti, guardi che Forza Italia è il suo partito. Lo so! Ho capito, ma lei ha detto... Ma adesso vediamo come finisce con la Pascale. Perché ora magari Forza Italia la lascio a lei e io mi tengo i cani. Non sa che io e i cani guardiamo le aste in tv? Non sa che compriamo i quadri dei pittori figaminghi? Fiamminghi? Sa che sono il maschile esperto mondiale dei Van Dijk Dijk che ricantavo sulle navi accompagnandomi col piano, marcia la coda, tira grandissimo. Ma era grande, 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 grande. Un attimo Presidente con calma. Allora abbiamo letto che compra i quadri nelle aste, però una domanda. Lei si fida, non teme gli imbroglioni che truffano gli anziani in tv? Assolutamente no. Io ci ho fatto anche una fortuna che poi ho chiamato Rete 4, però succedono cose incredibili. Ieri sera scanalavo, ho chiamato e ho detto voglio comprare un quadro, sono Berlusconi e lui e io sono Napoleone. Ci rende conto? Ma infatti è assurdo. Ma esatto, è assurdo che ci siamo incontrati così. Abbiamo parlato tutta la notte di lanciare il grande, 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 grande piano Waterloo. Ma non era Napoleone quelli? Lei pensi che una volta, ho anche parlato con Graviano, che non conosco, credo che sia un artista. No, guardi, non è un artista. Voi ho finito! Sì, prego. Io lì sera ho comprato un quadro bellissimo del 400. Ha comprato un quadro? Un Francesco della Piera originale. Allora, guardi che forse era un Piero della Francesca. Piero della Francesca. Allora, lo ha preso al contrario, devo girarlo. Comunque, se è della Francesca sicuramente lo rivuole indietro. Mi dispiace solo che per comprarlo ho quasi venduto il Monza. Urca! Adesso c'ho due portieri all'asta su eBay. Ecco, tra l'eBay si dice, senta, a proposito del Monza, è vero che vuole comprare Ibrahimovic? Solo se quello originale. Sì. A questo punto non si sa. Cosa? E credo che proprio questo sia il più grande, grande, grande problema che abbiamo oggi in Italia. Quale? Che bisogna stare distanziati da almeno due metri per evitare di comprare gli Ibrahimovic falsi. No, no, no. Quindi, italiani, attenzione alle fregature nelle aste. Esatto. Fidatevi di me, io lo so. Eh, perché lei? Veronica me lo diceva sempre. Cosa? Con quell'asta lì finisci che ti rovini. Era un'altra asta comunque. Per cui mi raccomando, occhi aperti! Sì, occhi aperti di cui mando un servizio. No, no, presidente. E niente, il servizio non parte, andiamo avanti con le altre notizie. Acquisti online. L'altra sera ho preso questo. Cosa? Questo era bello, lo conoscevo, l'aspirapolvero originale di Van Dyck. No, è solo una aspirapolvera. Ho fatto il mio prezzo, 52 mila euro, sicuramente conveniente, ne ho presi tre. Infatti 52 mila euro per tre, ho pagato 2 milioni e 100 mila euro delle vecchie euro con la spedizione gratuita, ma poi mi sono accorto che mi hanno fregato. Ah, meno male, se ne è accorto. E certo, non c'erano le batterie, allora le ho comprate a parte. Due mini stilo da 100 mila euro l'una, perché sarò rincognito. Ma non sono mica vecchio! No, presidente di nuovo, si svegli. Perché? Ma li hai mai visti gli altri? Ma che leader sono? Sì, certo, adesso parlo di politica. Ma che leader sono? Sì, sì, sì. Salvo solo Napoleone, perché ormai siamo amici, ma gli altri. Ma che leader sono? Presidente, presidente, la mano. Ah, mi scusi. No, doveva fermare l'altro, stia fermo. Fermo. Non così, non così. Presidente, si svegli, per favore. Ma cosa mi sveglio a fare? Che tanto sono chiuso in casa. Proprio ieri, un mio collaboratore, mi ha segnalato che ho più di 65 anni. Sì, infatti ne ha 84. E tra l'altro, per l'epidemia, lei è un soggetto, diciamolo, a rischio. È preoccupato? No, perché la crisi non c'è. Come non c'è? Vada in giro. Non esiste la crisi. Come no? Ma no, gli ospedali sono tutti pieni. Provi a prenotare, non si trova più un letto libero. E poi comunque, io fino al terzo grado di virus non mi preoccupo mai. Ho un po' di avvocati che si tamponano la vicenda. Ghebini ha già correlato Codogno e Monzese. Insomma, io sul virus sono positivo. No, 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 Presidente, l'unica cosa che adesso non deve dire, se no la isolano. Più di così? In che senso? Gli ha visti i sondaggi? Cioè? Come gradimento? Eh. Vengo dopo i cinesi? No. Grande, 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 grande. Allora, grande, grande.